Venerdì 10 febbraio sarà presentato nella sala polifunzionale del comune di Fano Adriano il libro del giornalista Marcello Sorgi dedicato a una figura veramente singolare, Mura, la scrittrice che sfidò Mussolini. Una storia davvero poco conosciuta che vale la pena essere raccontata. Sì, avremo Marcello Sorgi, per sette anni direttore della stampa, prima ancora direttore del Tg1 e del giornale radio, ma saggista, scrittore. Quindi un uomo abituato a percorrere tutte le diramazioni della parola e della scrittura e in questo libro racconta una storia vera, appunto quella di Mura. Siamo nel periodo fascista, sotto il regime fascista, questa scrittrice di successo a un certo punto subisce uno stracismo. Il suo libro, Sambadù, viene sequestrato e da quel momento, benché la sua carriera continuerà ad andare avanti, lei rimarrà comunque condizionata da questa esperienza così dolorosa. Perché è stato sequestrato quel libro accusato di scarso razzismo quando invece era pieno, purtroppo, purtroppo, di elementi razzisti? Cosa dava fastidio al regime? Sorgi prova a rispondere a questa domanda con un libro molto appassionante, molto ricco, capace di restituirci l'affresco di un'epoca intera, l'affresco necessariamente scuro, di un'epoca oscura. È un evento fortemente voluto dalla nostra amministrazione. La nostra amministrazione che, ormai io sono sindaco da quattro anni, quindi al primo mandato, ha voluto sin dall'inizio raggiungere degli obiettivi tramite appunto eventi di particolare importanza. E questo, quello appunto di riuscire a portare un giornalista, tra i più importanti a livello nazionale, in una piccola comunità, di un'area interna, forse la più piccola della provincia di Teramo, è qualcosa appunto che ci riempie di orgoglio, ma anche da tanta tanta commozione. Grazie